buongiorno sono urbano della sani moreno Volkswagen Audi di Fucecchio oggi è arrivata nel nostro parco usato questa bella bmw 318 turbodiesel dell'anno 2007 vi faccio vedere dei particolari intanto quindi la carrozzeria come vedete si presenta molto molto bene bella nera brillante gli interni lo stesso sono veramente belli di questo tessuto nero lo stesso i sedili anteriori gli accessori che ha questa vettura sono autoradio con cd originale clima automatico volante multifunzione e questa vettura pur essendo del 2007 ha percorso solo 69 mila chilometri ecco qua come ben vedete cerchi in lega gomme veramente belle anche a livello di battistrada questa è già disponibile per la vendita e per la prova su strada quindi se siete interessati non vi rimane che venire presso il nostro salone per ulteriori informazioni potete telefonare ai numeri che troverete sull'inserzione e potete andare anche sul nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le nostre altre offerte sulle vetture usate quindi non mi rimane che dirvi vi aspetto e a presto arrivederci